Da tutto il mondo e sinceramente sapevo che mamma era famosa ma non mi immaginavo che ci fosse tanto affetto Le cose ultimamente che le ha detto mamma, quale sono state? Nel momento del dolore Una cosa mi ha detto, stai sereno perché se non ce la faccio il padellasto con papà Se non rimango qui con voi, per me tutte e due le opzioni sono delle opzioni che mi piacciono Per cui stai sereno Queste le parole del figlio